fin da bambino la prova nei banchi di scuola era se più forte vediamo chi vince a braccio di ferro bene se sei cresciuto con questa idea che la forza si misura in quel modo fantastico però peccato che non vincerai in nessun altro sport e noi viaggiamo un po per osteotipi nel passare degli anni quindi la forza si misura in quel modo eccetera eccetera facciamo una prova di forza e quindi prendiamo un dinamometro facciamo che so l'uner m in palestra e verifichiamo che cosa succede bene però peccato che nel nostro sport non vinciamo secondo quella caratteristica di forza che abbiamo noi possiamo fare ad esempio brasilian jiu jitsu possiamo fare muay thai possiamo fare il taekwondo possiamo fare nuoto canoa canotaggio pallamano eccetera benissimo allora è vero che dobbiamo avere una caratteristica allenata di forza ma non è vero che quel tipo di forza la dobbiamo allenare nello stesso modo convenzionale uguale per tutti allora spieghiamoci meglio se io sono un atleta che faccio sport posso fare triathlon atletica o qualunque dei vostri sport o comunque anche fare fitness per il mio benessere allora dipende che tipo di forza voglio la tipo una parola che suona male perché di forza è una poi l'applicazione è diversa allora cerchiamo di capirci con una slide che magari ci rende un po facile l'idea quindi il telefonino da qui va così in orizzontale mettete qualche like vario perché siamo per partire allora partiamo con questa prima slide che un po ci fa capire di che stiamo parlando intanto quando parliamo di forza dobbiamo parlare a tutta una serie di attività coordinative quindi tutto parte dal sistema nervoso centrale quindi cervello e midollo spinale che poi dirama il segnale che noi abbiamo realizzato mentalmente verso il nostro muscolo che dovrà poi eseguire quell'azione quindi c'è una coordinazione intramuscolare e intermuscolare ovvero per non essere troppo difficile dobbiamo attivare una sequenza di muscoli e quindi una coordinazione tra i muscoli e poi una coordinazione dentro il muscolo tra le fibre perché sappiamo che le fibre non sono tutte uguali e quindi abbiamo una serie di fibre che si attivano ad una certa intensità bassa intensità quindi anche solo sollevare il telefono non è che muovo tutti i muscoli muoverò una piccola porzione di fibre ma se questo telefono pesasse che so una trentina di chili il mio cervello direbbe attenzione devo dare più forza quindi c'è una serie di aspetti coordinativi molto importanti che sono stabiliti dal sistema nervoso centrale quanto stai allenando il sistema nervoso centrale per l'attività di forza forse non ci hai mai pensato quindi quali sono le caratteristiche di un atleta che deve essere chiamato un atleta forte questo sono alcune slide vengono prese poi dal corso un pochino più avanzato dei video normali insomma lo stiamo commentando che siamo power expert quindi le caratteristiche di un atleta forte sono delle caratteristiche che intanto richiedono la capacità per l'atleta di poter dare il giusto stimolo per esattamente quello che devo fare ma quello che devo fare non sempre sollevare un bilanciere in verticale cosa dovrò fare ad esempio vediamo il caso che io sia un atleta che faccio calcio palla a mano pallavolo triatrone e quant'altro o anche nuoto allora ci sono due caratteristiche che viviamo in quest'altra slide che sono la forza massima e la forza relativa cosa sono questi concetti allora la forza massima è semplice significa che se io spingo una parete e poi attacco un dinamometro io la parete non la sposto e quindi arriverò la mia massima produzione di forza del tempo mettiamo il caso come in questa slide magari ci possa aver messo questo un secondo e mezzo raggiungere il picco massimo di forza fantastico qual è lo sport dove vinco però con un'applicazione di forza dopo un secondo e mezzo facciamo anche esempio allora ad esempio noi l'applicazione massima di forza durante la passata dello stile libero del filo nel nuoto ce l'abbiamo in qualche decimo se andiamo a fare a triathlon per esempio nella pedalata o nel tocco di ogni passo ce l'abbiamo in porzioni millesimali quindi in qualche centesimo in qualunque tipo di altro sport l'applicazione massima della forza è in poco tempo ma veramente molto poco quindi se noi abbiamo un atleta che si è allenato perché è arrivato ad un rm quindi alla sua massima forza nel tempo probabilmente sono un atleta che non vincerà mai nulla in sport dove devono applicare la forza in breve tempo infatti in questa slide se andate a rivederla bene rimettendo un attimino il telefono in orizzontale guardiamolo insieme avete due colori il colore fucsia è un atleta che ha nel breve tempo una applicazione più alta dell'atleta con la riga nera che ha un'applicazione nel tempo nel breve tempo molto più bassa però a lungo termine alla forza massima più alta quindi possiamo prendere due atleti che sono allenati in modo diverso uno ha fatto una metodologia diciamo classica di forza in palestra è appuntata ad aumentare a dismisura la sua forza massimale ok l'altro se ne un po tre virgolette fregato la sua forza massimale è andata a lavorare la parte neuromuscolare per cercare di essere più efficace nel tempo giusto del suo sport qual è il tempo giusto sul suo sport beh bisogna calcolarlo e qual è il carico giusto allora a quel punto la domanda giustamente che mi fai se voglio allenare questo qual è il carico che devo usare se devo fare panca piana devo fare squat eccetera bene quel carico va calcolato come si calcola si calcola in questo modo anche in questo caso dobbiamo verificare due curve la prima curva quella diciamo lineare e la curva forza velocità la seconda curva quella che è una caratteristica a campana e la forza della potenza cosa succede che queste curve sono in teoria relazionate tra di loro in pratica non è una costante quindi noi possiamo avere atleti che hanno la massima forza uguale mettiamo 100 kg panca piana giusto per arrotondare però uno di loro a 75 kg di potenza e un altro a 52 kg di potenza allora chi è che vince vince sicuramente chi riesce ad applicare quanto più possibile la forza che una potenzialità in potenza perché nel suo sport quel tipo di caratteristica è sicuramente più efficace questo ancora non basta perché poi bisogna verificare se nel suo sport specifico stiamo trasferendo quello che ci serve quindi il bravo preparatore bravo allenatore il bravo personal trainer che sta allenando un atleta o tu insomma se sei un atleta non devono pensare dovete pensare non dobbiamo pensare solamente ad allenare la forza a prescindere ma dobbiamo allenare la forza in funzione di quanto come la dobbiamo usare e quindi sulla base di questo cercare di allenare partendo da questo valore che ci darà nel momento più alto di questo picco quello lì il carico ottimale quanto è oggi il carico ottimale 68 kg bene questo è il nostro carico quello che sviluppa la massima potenza nell'immediato cioè quello che ci consentirà di avere questo effetto della curva fucsia cioè in breve tempo magari due decimi il massimo di applicazione non importa che poi il nostro massimale sia più basso del nostro avversario o tanto l'avremo battuto e non ci interesserà più la gara si vince su altri parametri quindi non si vince su chi vince a braccio di ferro si vince su chi sviluppa maggiore potenza nell'unità di tempo queste erano tutte slide di power expert se vuoi dare uno sguardo ai modo nel titolo di capire come fare però altrimenti ci vediamo domani mattina alle 7 un quarto qui da me grazie ciao grazie a tutti